Un saluto a tutti da SnowKills e ben ritrovati in un nuovo video, questa volta su Rainbow Six Siege, ragazzi, forse è il primo video che faccio su Rainbow Six Siege, anche se ci sono state già delle live, le avrete viste sicuramente, e oggi volevo qui insieme a voi aprire questi due pack che ho messo da parte, due alpha pack, e in più andare a fare la prima ranked praticamente su questo gioco. Allora, dato che ho fatto qualche partita, mi sono un po' allenato e volevo andare a provare a fare la prima ranked, quindi, vediamo un po', una skin a palline e mitraglietta, ok, se ne può aprire direttamente un altro, ok, apriamolo subito, un copricapo, vabbè, poca roba, possiamo andare indietro, vediamo se c'è un amico, se vuole entrare, beh, a quanto pare non è online e quindi mi toccherà andare da solo, allora, vediamo un po', classificata, andiamo un po', speriamo di vincerla, più che altro di vincerla, speriamo di far bene, di non essere sfigati, ok, ce l'abbiamo fatta, partita sta per iniziare, bene, ci sono, ragazzi, concentrazione, allora, vediamo un pochettino che ci prendiamo, Rook l'hanno preso, quindi andiamo con Bandit la prima, metto subito il filo spinato e il gadget vicino in prossimità qui, mettiamo uno qua, perfetto, però hanno trovato lo stesso, questo operatore ha ancora questo mirino, ragazzi, ve lo giuro, l'odio questo mirino, anche qua ci mettiamo la trappola, perfetto, adesso non bisogna fare altro che attendere, barrico qui, così, se me li sento arrivare dietro, dovrebbero sfondare svariate porte e quindi me ne accorgo e me la campero tipo qui, perché mi sembra proprio un buon posto, attenzione, ragazzi, tensione, si spara tanto di là, e soprattutto devo prendermi il giubbetto, nooo, fanculo il giubbetto, quello l'ha buttato in mezzo alla strada, Ok, dai, sali, nooo, cazzo, vaffanculo, merdaccia, merdaccia, dai, contiamo su di voi, mi metto alle telecamere, dai, 15 secondi, non piazzano niente, Perfetto, no, ha piazzato, non ci posso credere, non ci posso credere, sta andando tutto in rotoli, dai, vai, eccolo, eccolo, grande, nooo, fuck, Da, che sfiga, prendiamo IQ, sperando di non prenderlo in Q, ovviamente, ragazzi, ovviamente, seleziona il punto di rientro, qua, boh, ma non l'ho scelto però, cazzo, Va bene ovunque, va bene, va bene ovunque, troviamo la bomba, quando mai sono sopra, oh, sento, inizio a sentire rumori, eccone una, ok, abbiamo noi il disinnescatore, Devo salire un po' più per le scale, invece di passare da quelle finestre direttamente con loro che ti sparano, Ok, si stanno già ammazzando, oh, dai, non ci posso credere, ma che palle, proprio della finestra che avevo rotto io, no, cioè, allora stavo a far bene così, Fanculo, dai, questa per colpa mia l'abbiamo persa, vaffanculo, dai, salta e metti la bomba, vai, grande amico, Dai, ce ne sono solo tre Esatto, grandi, 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 nice job, dai, due round, il secondo ho fatto veramente pena, Tutututututututu, questo, vai, sono stato anche individuato, fanculo, Barricchiamo anche di qua Ma muori, va Ma chi, no, 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 fanculo, ma lo va pure a salvare Cioè, no, cazzo, che sfiga, forse lo dovevo finire là per là, merda, però, però, forse, dai, tre contro cinque, seguiamo un po' quello che stanno facendo i nostri amici Nooo, si fanno spiantare Spara Spara Grande, grande, accoltellate Cioè, questo ovviamente l'ha ucciso col drone, è una storia incredibile Uno contro due Solo un miracolo, ragazzi, solo un miracolo Di là, di là, dove cazzo spari? Che cosa spara? Cioè, si vede, si è visto chiaramente che si muoveva di lato Di nuovo EQ Ok, sta qua la bomba Allora, vediamo un po', diamo una Un'occhiata A che cosa cazzo ci sta qui Esci fuori Metti il naso fuori, pezzente Chi è coraggioso, il tizio? No, merda, 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 merda Il fottuto pavimento del cazzo Abbiamo perduto miserabilmente Vabbè, è andata Cioè, almeno prova C'è da prendere la bomba Perdiamo se non lo fai Che salvi quello Che cazzo c'è, boh Un conto è perde Un conto è sbaglia Un altro è non fare un cazzo per tre minuti Cioè, sei proprio un coglione Dai, mi prendo questo Li vado a cercare sto giro Me ne vado a spasso nel dojo Uno se ne è anche andato Sono schiattato quattro volte Devo proprio ritirare su la situazione Oh, dammi un bel giubbotto antiproiettile, va Dove cazzo sta quel drone di merda? Non vedo un cazzo Ok Piazziamo qui Poi Poi Ok Le bombe è qua Il nemico ha trovato una bomba Prepararsi all'ingaggio Rifarsa pavimento completato Ah, come ti ho fregato subito proprio Oh, l'ho visto L'avete visto passare? Fuck Muori male Cazzo Vi piallo tutti Cazzo Vai cazzo Vi piallo tutti Cazzo Fuck Vai che la recuperiamo In quattro Bravi Sottovalutate Riandiamo di IQ Ah, niente In quattro ragazzi Dobbiamo cavarcela così Con uno in meno E dare il meglio Ok Sento le interferenze Oh, oh Ok Raga, trovatela voi Perché io Niente Non siamo riusciti a trovare nemmeno una bomba La situazione è un po' triste Proviamo a rilevare Allora, una bomba là Vediamo dove sta l'altra Vorrebbe stare qua Ok Allora Ora No, scavalcare Madonna Che palle Che cazzo di rampino di merda Devi mettere Allora Vediamo un po' Hai trovato una bomba Dai Mettete il naso qua Ok Creiamo una nuova porta Ci siamo Indietro Bene No Cazzo Però l'ho spianato 1v1 Vi prego Dai Che jella Due insieme Due insieme No Ehh Fuck Alla fine mi ero anche ripreso Ma in 4 E' stata un po' sofferta Anche perché All'inizio Non è stato troppo brillante Ma vabbè ragazzi Le partite si vincono e si perdono Che cazzo ci vogliamo fare Questa insomma è stata La mia prima ranked Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like E un commento Fatemi sapere che ne pensate Io vi saluto E ci vediamo come sempre Nel prossimo video Ciao Ciao